Non ci sono dubbi sul fatto che Mirko Cudini, il battesimo allo Zaccheria, lo immaginava e sognava in maniera diversa. Ed invece il suo debutto casalingo sarà contornato dal deserto, stadio chiuso ai tifosi per disposizione della prefettura in seguito ai fatti di Taranto, già puniti con un altro turno di stop, imposto dal giudice sportivo e che sarà scontato con la Virtus Francavilla. Stadio deserto e necessità di riscattare anche il passo falso dello Iacovone dove il Foggia è caduto pur non sfigurando e reggendo nonostante le difficoltà per un'ora di gioco. Lunedì sera però servirà portare a casa i tre punti anche se il Giuliano è un avversario da prendere con le cosiddette pinze. Nell'antivigilia è lo stesso allenatore del Foggia a fare il punto della situazione. Le sensazioni sono positive, positive perché dobbiamo pensare positivo. Come ha detto lei abbiamo fatto una discreta partita a Taranto, purtroppo siamo stati non bravi a far fare degli episodi favorevoli a loro e quindi questo ha determinato il risultato. Per quanto riguarda la prestazione credo che la squadra si sia espressa discretamente per quanto concerne il tempo che siamo insieme e quello che magari è da cambiare rispetto al passato. E quindi di questo sono contento. Non sono contento del risultato, come ho già detto. Nessuno credo sia contento, però abbiamo subito una partita in casa dove purtroppo non abbiamo il nostro dodicesimo uomo che è lo Zaccheria. Quindi per noi è un fattore importante, lo sappiamo, come lo saranno per altre squadre in casa loro. Quindi ci dispiace di questo, però noi abbiamo bisogno di fare punti al di là delle porte chiuse in questo momento. Quindi ci darà sicuramente supporto, anche se dall'esterno, credo il pubblico. E quindi di questo dobbiamo essere consci. Non dico che bisogna giocare soprattutto per loro, però sicuramente dobbiamo farlo anche per loro. La prima cosa che conta è quella di fare risultato e per darci tranquillità, per poter lavorare meglio. Questo sì, perché poi dopo i risultati fanno un po' tutto. E quindi andiamo alla ricerca anche di questo. Frigerio ci siamo conosciuti in questi giorni, quindi lo conoscete meglio di me. Un ragazzo positivo, un ragazzo eccezionale, quindi un bravo ragazzo. Al di là di quelle dinamiche che sono successe fino a questo momento, credo che si è messo a disposizione con grosso entusiasmo. E quindi sta cercando di riprendere la condizione migliore prima possibile. E questo è quanto. Per quanto riguarda indisponibili Tunkara sicuramente per squalifica. Il resto siamo tutti per ora a disposizione. C'è ancora un giorno, però speriamo di non perdere nessuno strada facendo. Forse della partita di Taranto, al di là del modulo, molto simile, e al di là delle caratteristiche della scuola avversaria. Vengono da un campionato importante l'anno scorso, hanno fatto molto bene fino alla fine. Quest'anno hanno mantenuto gran parte dell'organico e quindi il modo di giocare è ben chiaro. Sappiamo le loro caratteristiche, una squadra fisica, una squadra che lascia anche il palleggio la squadra avversaria, ma sa poi controbattere, quindi sa essere importante anche sulle palline attive. Quindi è una squadra da prendere con le molle sicuramente perché hanno giocatori anche importanti. Hanno un reparto avanzato di categoria, questo sì. Come dietro hanno esperienza. Quindi sta a noi cercare di affrontarli con la giusta cattiveria, sotto certi aspetti, con la giusta attenzione perché poi le partite non sempre si riescono a vincere con l'aspetto tecnico, con l'aspetto organizzativo, ma a volte la furbizia, la scaltrezza e l'attenzione a volte fanno la differenza come è capitato anche domenica scorsa.